Wella ragazzi, ciao a tutti da Nick e bentornati qua su Far Cry 6 Allora, come sempre, sto registrando mentre mi trovi live su Twitch Se vi va in descrizione trovate il mio canale Twitch e un link per comprare questo e tanti altri giochi scontati Allora, si va avanti e nello specifico, boh, prendo una missione qua, quello che è Vediamo la più vicina, la più vicina Facciamo quella d'Italia che è più vicina, un chilometro e cento Allora, e c'è un viaggio rapido? Ma te pare che c'è un viaggio rapido quando serve? Ma non esiste Vabbè, oh, non esistono i viaggi rapidi qua, vero? Va bene, va bene, ci vado, ci vado Paolo e busy Allora, e si va, si va, si va, con la macchina, ovviamente Che mi piglio il cavallo? Non ci arriverò mai Che macchina piglio? Pgliamo questo Dov'è? Salta, qual è il tasto? Eeeh, mi confondo con farming io E sono due giochi simili questo con farming, no? Vabbè, oh Sarà pure ben corrazzato, però è lento Sarà pure corrazzato bene, ma è lento Eh vabbè, però almeno è ben corrazzato Ti aspetto sulla giostra, va bene, ci facciamo una giostra in compagnia Oh, eccoci qua Eh, magari Oh, chi cacchio so' questo? No, non uccidere i civili? Ma se è civile si è buttato sotto le ruote che è colpa mia Cioè, non uccidere i civili? Cavolo, quello si è buttato... si è buttato sotto le ruote? Che ci posso fare io? Perché non sto più attento Alla Talia è lì sopra Andiamo a vedere che vuole Talia Ma tanto già l'ho capito perché qui davanti c'è tipo una base, quindi Già immagino che deve assaltare la base Di sicuro non mi mandano a comprare le caramelle questi Libera quelle persone, a tutti i costi Vabbè, ho capito, ho capito, ci guadagno un cavallo zebrato Si, si, ho capito Ci vado, ci vado, non preoccupare Orca miseria, quanta gente Oh, oh, oh No, guarda come l'omena, quello muore, eh A camera Ma sicuro che ci stanno gli allarmi E quello, l'allarme Camera Eh, il mio problema sono gli allarmi Che poi l'allarme si trova proprio nel lato lontano Altri nemici non li vedo, ma è probabile che ci sono Ah, come si scende qua? Ok, oh, piano Scendi, scendi, scendi Togliti l'arma prima che qualcuno si innervosisce Allora, io vorrei andare dalla parte dove c'è Dalla parte dove c'è il cosino Voglio andare dalla parte dove c'è l'allarme Perché la prima cosa che vorrei fare è disattivarlo Se posso disattivare l'allarme almeno evito problemi I più grossi Allora, si potrebbe entrare da qua Ma io vorrei andare, porca miseria, verso l'allarme E l'allarme come, caspita Lo raggiungo È un po' fuori mano sto cavolo di allarme È decisamente fuori mano Piano, piano Dove cacchio è l'allarme? Già me lo so perso di vista Uh, mi ha fatto cacassotto Allora Oh, si mette pure a piovere A posto Oh, cacchio è l'allarme Sì, ora le liberiamo le persone Prima però Penso all'allarme Allarme, allarme Che ha? Uh, chi è, chi è, chi è, chi è? Ma dov'è l'allarme? Non lo vedo più Ah, no Quello è, no Oh, più avanti c'è gente Ma perché non la vedo? Oh, cacchio è st'allarme Eh, ormai mi trovo qua Eh, un bel problema Speriamo che non mi vede nessuno Ma io non so manco dove cacchio sto andando Porca miseria Eh, mo me vedono Oh, guarda dove è l'allarme Come lo raggiungo? È proprio fuori mano Oh, guarda dove cacchio è l'allarme Vabbè, in qualche modo l'ho fatto fuori l'allarme Però ce ne potrebbe essere Eh, là sotto ce n'è un altro Sì, vabbè Però forse da qua lo posso far fuori quell'allarme Oh, no, 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 ciccio Voglio far fuori gli allarmi E poi Chi se ne frega Che con l'allarme Arrivo in elicotteri I problemi vari Cioè Comunque mi basta in teoria Sparare all'allarme Magari me la cavo anche così Il problema è che Il problema è che qua Oddio Cos'è il cecchino? Eh c'è il cecchino là Eh qua Da qua l'allarme manco se vede porca miseria Tutto bene ragava Tutto bene per ora Riesco a far fuori anche l'altro allarme Eh qua non si passa Piano Ora tra un attimo qua arriva la pioggia Ma che che è un muro? Una barriera qua? Oh da qua potrei colpirlo L'ho fatto fuori? L'ho beccato l'ho beccato Eh raga mi sa che l'ho beccato Ok Oh non lo so ma secondo me ci sono altri allarmi Perché praticamente di solito lo dice Tipo hai fatto fuori tutti gli allarmi Ancora non me lo sta a di Vabbè me che devo fare Meglio due che niente Ma vediamo di far fuori un po' di gente Cerchiamo di ammazzarne quanti più possibile Senza dare troppo nell'occhio E via Eh dove si arriva si arriva Vediamo se becco qualche altro allarme in lontananza No Oh quello quello si avvicina eh Chi è il tenente Colombo? Abbiamo perso il tenente Allora il tenente è morto Vabbè sono tanti eh Sono tanti Devo comunque andare verso di loro Cioè come faccio? Ovviamente mi devo far sgamare Quelli sono uniti Non è che li posso separare Per ammazzarli in silenzio Eh non ci hanno manco messo la monetina E sto gioco per distrarli Cioè Come li distraggo? Chiave di sicurezza Beh fino a qua Oh che è? Già arriva l'elicottero? E chi l'ha chiamato? Eh quella non è una bella cosa Come che da queste parti non vedo nemici Allora da queste parti c'è qualche cattivone Mo' devo provare Devo entrare Usa gli animali Yara che deve sapere Libera i prigionieri Le guardie apriranno il fuoco Sui prigionieri in fuga Quindi non devo liberare nessuno Prima devo ammazzare le guardie Devo quindi far fuori le guardie Una parola Perché questi sono belli che Chia miseria Quante guardie Quello mi potrebbe vedere E' un bel problema Comeți C'è anche il problema Che C'è il problema Quanta Ho Quanto Avevano Cercherci Che Poi Il D C'è Le D C'è 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 Oh, c'è una guardia là in fondo, cacchio. Non rompere, prima fammi far fuori le guardie. C'è una miseria, guarda là. Porca di quella miseria, porca di quella. Devo far fuori quello là sotto. Oh, rompermi il biscotto. No, cacchio, mi sono fatto sentire, mi sono fatto sentire, porca miseria. Liepinga, 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 liepinga. Arrabbi per me! Mi è rotta e scato, ed ammazzo se non tu stai zitto, eh. Perché qua mi segna altri nemici, ma non li vedo. Prima di liberarli, mi devo assicurare che non c'è nessun altro, ma io qua mi segna altri. Sì, c'è qualcuno, lo sento canticchiare. Devo ammazzare sto tizio qua dentro. Hallooo! Hallooo! Ok, ora penso che posso liberarli... la della camera l'ho fatta fuori si ma vediamo libera si va tenno allora dentro la zona di ricerca come si apre qua lucchetti si prego 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 arrivo e mo l'altrido stanno me ne mancano 3 qual è lo scopo di far cry probabilmente eliminare il dittatore no ovviamente mi ha fatto cacacque tutti occhi 2 cacchio liberate e verde ho fatto una pessima idea oma no ma no ma ho paura che cacchio sto liberando col cacchio che te libero via 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 ok allora in pratica dobbiamo cercare la stanza quella con i video di sorveglianza ok a 87 metri d'acqua va bene allora io mo no 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 qua non mi piace no 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 scendi scendi scendo cos'è una chiave guarda un po dover a chiave o mamma mia meno male che l'ho trovata ma tu pensa arrivavo la è manca la chiave ma cerco per tutto il posto meno male che l'ho trovata ma io che armi o ma veramente sto usando le armi base ancora me trovo comunque bene è in fondo ho fatto fuori tutti ma ok ufficio non mi interessa rifornisci gadget ma che vuol dire interagisci e te pareva ma roba col cacchio che ce la faccio no 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 troppo male troppi 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 no 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 fanno male so troppi E' un pezzo in me! Oh 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 porcate quella! affacciati alla finestra bello mio o che cacchio tembri cosa sta a fa' questo prego prego segno ho un pezzo di merda mandato un calcio in bocca mandato se mandatemi anche gli elicotteri ne ho proprio il bisogno cavacca oh quello con lancia fiamme è venuto qua dentro quando manca 85 per cento che dai o è buongiorno dai 95 per cento abbia ora quell'elicottero lo famo fuori col col cosino col supremo mo mi ha detto no ok ok arrivo fuoco bang niente bang che schifo non hai fatto bang mi hai tolto il piacere del bang va bene o il mio cavallo zebrato vero è un buon cavolo i'm good with animals ma ora che c'è soffa ok missione completata so salito al sesto grado nuove armi e dotazioni da comprare ovviamente immagino a proposito di armi e dotazione cosa succede cos'è quelli protestano e non possono protestare in santa pace ci pensa nicchia a fare un altro soldato che vuole fare furbo dai soldati sono morti allora ma a proposito di armi e dotation arsenale ars dunque io ancora vado avanti con armi banali da un certo punto di vista ma non sbloccato niente ai fi ciò la hai fi porca miseria da me la hai fai e questo qual è quello silenziato io beh se non c'ho di me io mi tengo quello che devo fa ma vabbè abbiamo sbloccato altro 33 niente se quelli sempre quelli guanti e mi tengo questi però allora ma chiaro sblocchi arma e che ho preso questo è anno questo ma questo non è silenziato vediamo questo cacchio che è silenziato questa non è silenziata ma neanche un po e me sa che per silenziarla deve andare al banco da lavoro vabbè poi vediamo intanto comunque ho finito il tempo finisco questo gameplay per chi guarda su youtube spero che il gameplay sia piaciuto mi raccomando commentate iscrivetevi lasciando un bel pollicione in su vi ricordo che descrizione c'è il mio canale twitch è un link per comprare questo e tanti altri giochi scontati ciao alla prossima ciao